Gesù ci ricorda che il vero significato del nostro esistere terreno sta alla fine, nell'eternità. Sta nell'incontro con Lui, che è dono e donatore. E ci ricorda anche che la storia umana, con le sue sofferenze e le sue gioie, deve essere vista in un orizzonte di eternità. Cioè in quel orizzonte dell'incontro definitivo con Lui. E questo incontro illumina tutti i giorni della nostra vita. Se noi pensiamo a questo incontro, a questo grande dono, i piccoli doni della vita, anche le sofferenze e le preoccupazioni, saranno illuminati della speranza di questo incontro. Così Papa Francesco, all'Angelus di questa prima domenica d'agosto, ha commentato il Vangelo di Giovanni inserito nella liturgia, nel quale Gesù rimprovera la gente che lo cerca dopo la moltiplicazione dei pani, solo per ricevere il pane materiale. Oltre alla fame fisica, ha spiegato il Papa, Gesù ci fa capire che l'uomo ha fame di vita, fame di eternità, che solo Lui può pagare, in quanto è il pane della vita. Incontrare e accogliere in noi Gesù, ha concluso il Papa, dà significato e speranza al cammino spesso tortuoso della vita. Dopo la recita dell'Angelus, Papa Francesco, parlando del perdono di Assisi, che si ricorda oggi, ha sottolineato ancora l'importanza del sacramento della misericordia. C'è gente che ha paura di avvicinarsi alla confessione, dimenticando che là non incontriamo un giudice severo, ma il Padre immensamente misericordioso. E se sentiamo vergogna, questa è una grazia, che ci prepara l'abbraccio del Padre, che sempre perdona tutto. con la testimonianza del nostro atteggiamento fraterno e solidale verso il prossimo.